In questi giorni è naufragato il progetto di partito unico con Italia Viva. Noi abbiamo fatto questa promessa durante le elezioni, ma dopo le elezioni si è capito abbastanza chiaramente che Renzi non lo voleva fare prima delle europee ed è una visione a cui noi ci siamo posti. Quello che succederà adesso è che Azione farà questo lavoro mettendo in discussione tutto il suo nome, un manifesto politico inclusivo verso l'area popolare e l'area liberale, perché è un impegno che abbiamo preso. Ci avrebbe fatto piacere, era logico, lo avevamo promesso agli elettori di farlo insieme a Italia Viva, Renzi ha voluto diversamente. Aggiungo un fatto, in questi mesi, in queste settimane non sono stato riempito di insulti di ogni genere, da Renzi stesso e da Italia Viva, non ho risposto a questi insulti. I miei rilievi sono sempre stati puntuali e di natura politica, non risponderò a questi insulti. Ma certo c'è un problema di fiducia reciproca e su questo bisognerà lavorare perché comunque abbiamo dei gruppi parlamentari comuni. Oh, questa cosa qua mi dovete spiegare bene. A questo punto che succede? Intanto naufragio? Naufragio, perché ieri sera abbiamo fatto un incontro, cioè quando si lavora ad un progetto si prova a capire se l'obiettivo comune può diventare un percorso comune, fatto di regole, di criteri, di contenuti, di valori, di visione. Un partito non è solo due soldi, è un congresso da fare. In questo incontro, e lo vorrei dire senza lo scaricabarile, colpa di Renzi, di Calendi, Italia Viva, Azione, non si era giunti ad un'intesa perché in maniera molto chiara ed anche molto legittima, Italia Viva ci ha detto noi non siamo in grado di sostenere questo percorso nell'immediato, non solo dal punto di vista economico, anche dal punto di vista dell'iniziativa politica. Ci hanno detto nel 2024 noi dovremmo fare la Leopolda e sarà un'iniziativa di Italia Viva. Io la Leopolda la conosco bene e la rispetto anche molto ed è anche giusto che quell'appuntamento Matteo Renzi lo voglia tenere, finanziato e proposto da Italia Viva. Allora io le chiedo, ma se nel 2024 ci sono eventi di Italia Viva, il partito unico che fa? Facciamo anche gli eventi di azione, gli stati generali sulla sanità? Non è una polemica, non è colpa loro, è che quando tu provi a mettere sul tavolo il terreno di un'intesa... Cioè quando entri nel merito delle cose da fare, delle cose concrete, se poi capisci che queste cose non sono coincidenti... Quando Carlo dice non voleva sciogliere Italia Viva e Matteo dice no, io Italia Viva sono pronto a scioglierla, cosa dicono? Entrambi una verità, semplicemente però con dei tempi che fanno sì che il partito che nasce, e ricordiamocelo, nasce alla fine di ottobre con le elezioni europee che sono l'osso del collo per un partito nuovo che gioca col proporzionale, con tutti impegnati uno a fare la Leopolda e l'altro qualcos'altro. È un problema di serietà e devo dire che il tono che ha utilizzato Carlo Calenda è stato il nostro approccio a quell'incontro, lo dico anche perché lei lo ricordava, io sono capogruppo di tutti. Lei cita quell'incontro che era un incontro politico, era il comitato politico della federazione. Comitato politico, noi c'eravamo, vi abbiamo seguito, lo faccio vedere, i miei ospiti arrivo poi da Mazze Barbacetto. Vediamo.